cari amici e devoti di santa maria dei miracoli eccoci qui pronti a celebrare una nuova pasqua di risurrezione la pasqua di cristo che il centro della nostra fede della nostra esistenza cristiana ogni comunità celebra la pasqua del suo signore vogliamo anche noi camminare come risorti per fare esperienza del risorto nel nostro santuario di morbio quest'anno per la prima volta grazie a don donato brianza mio amico e confratello parroco della comunità di gordole montedato abbiamo potuto allestire questo presepe pasquale grazie a un gruppo di volontarie sempre attive nel nostro santuario di morbio con scene suggestive molto belle interessanti dall'entrata di gesù in gerusalemme la domenica delle palme che abbiamo celebrato alcuni giorni fa e poi tutto quanto viviamo in questo triduo pasquale dall'ultima cena alla preghiera di gesù nell'orto quando viene catturato poi condotto con tutti i processi narrati dai nostri evangelisti nella passione sia secondo matteo che marco che luca sia giovanni e poi compilato quando presenta la folla ecco l'uomo e la folla grida crocifiggilo dopo averlo fatto flagellare il cammino verso la croce la crocifissione la deposizione gesù che viene riposto nel sepolcro per poi giungere alla pasqua di risurrezione ci siamo preparati con questa quaresima una quaresima ancora particolare se pensiamo a una pandemia che non è terminata è ancora tra noi in mezzo a contagi e preoccupazioni poi la guerra in ucraina la guerra che ci sta toccando tutti da vicino nella collaborazione soprattutto nella condivisione verso il prossimo sventurato e allora una quaresima che ci ha fatti preparare nella fede col cuore rinnovato per celebrare come già detto la pasqua del signore da questo santuario di santa maria dei miracoli la vergine addolorata presso la croce che poi ha gioito madre del risorto vogliamo proprio affidare la nostra vita i nostri cuori le nostre famiglie le nostre piccole o grandi comunità tutte le necessità del mondo perché maria le presenti a gesù è lei che intercede per noi presso il signore proprio come ha detto al messaggio qui di morvio alla giovane caterina fate refare questo luogo perché qui vi si ritorni a celebrarvi messa maria ci porta all'eucarestia nell'eucarestia incontriamo il signore risorto allora a nome mio personale a nome dei collaboratori delle collaboratrici che sempre operano in questo santuario a nome dei tecnici perché giusto ricordare chi ci dà questa possibilità dei video messaggi delle messe in streaming questa sera mi permetto di portare il saluto e l'augurio di pasqua a nome di angelo riz e di marco barzaghini collaboratori proprio dello streaming perché questo santuario venga sempre più conosciuto in ogni parte non dell'europa ma del mondo a tutti una serena buona santa pasqua del signore